La notizia che un vaccino sviluppato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech possa essere efficace al 90% ha fatto sperare in un'accelerata nella lotta contro il covid. I ricercatori lo hanno definito un grande giorno per la scienza e l'umanità. È stato testato su 43.500 persone in sei paesi e non sono stati riscontrati seri problemi di sicurezza. La battaglia però non è stata ancora vinta. Per alcuni scienziati è una svolta, altri sono più cauti. È certamente un passo importante verso il ritorno alla normalità qualunque essa sia, spiega Andrew Preston, specializzato in patogenesi microbica, ma siamo ancora lontani da un mondo senza mascherine. Pfizer e BioNTech sostengono che entro la terza settimana di novembre saranno in grado di portare il vaccino davanti alle autorità di regolamentazione. Questo significa che il covid non c'è più perché si parla di efficacia al 90%? Significa che questo sarà il miglior vaccino? No. Significa che questo vaccino darà l'immunità per anni e anni come quello contro il morbillo? No, dice Paul Duprex, direttore del Centro per la ricerca sui vaccini dell'Università di Pittsburgh. Quello che sappiamo oggi da quest'analisi molto limitata è che abbiamo iniziato a fare progressi sul vaccino e abbiamo visto una riduzione della malattia, ma c'è ancora molta strada da fare prima che questo vaccino venga somministrato a decine, centinaia di milioni di individui. Ci sono altri dieci vaccini alla fase finale della sperimentazione e si pensa che ce ne vorrà più di uno perché la pandemia sia un lontano ricordo, ma grazie anche a trattamenti efficaci sembra almeno siano stati fatti progressi perché venga meno la necessità di lockdown.